Buonasera dal Palatrento dove la Diatec oggi ha ricominciato gli allenamenti con otto giocatori agli ordini del nuovo coach Angelo Lorenzetti. Tanto entusiasmo per l'ex modenese che ha portato allo scudetto la formazione della DHL che ora riparte con una formazione molto giovane che vede i rientri di Ian Stoker e Matteo Burgstaller che saranno anche un po' le colonne portanti in termini di età e di esperienza di una formazione giovanissima. Otto dicevamo i giocatori che si sono presentati davanti a un nutrito gruppo di tifosi pronti ad applaudire sono il palleggiatore Alessandro Blasi dicevamo di Matteo Burgstaller di Ian Stoker, c'è Tine Urnaut, c'è il giovane Matteo Chiappa che arriva dal vivaio della Trentino Volley ci sono Daniele e Tiziano Mazzone, c'è Gabriele Nelli. In più c'è anche Mattei Casischi che prima di ripartire per il suo J-Tech per il Giappone si allenerà con la formazione di Angelo Lorenzetti. Ma andiamo a sentire subito le parole, le prime parole di Angelo Lorenzetti prima di riprendere gli allenamenti per lui di cominciarli con questa formazione e poi andiamo a sentire Matteo Burgstaller e Ian Stoker il loro ritorno al Palatrento così come quello di Tine Urnaut e la novità di questa formazione il secondo palleggiatore ovvero Alessandro Blasi. Il ripristino di una condizione fisica discreta è la priorità, ovviamente siamo giocatori, sono giocatori e la palla bisogna toccarla da subito però con la gradualità sia per quel che riguarda l'intensità del lavoro in palestra e dei salti. Però insomma era ora di iniziare, ci siamo. Cambia tanto, cambia tanto, siamo quattro centrali non tre, cambia che sono un anno più vecchio e gli obiettivi non sono quelli di vincere quindi comunque di vincere per forza, siamo una squadra forse tra le prime quattro in Italia, forse la più completa, la più omogenea quindi da questo punto di vista ci deve essere la mano di tutti, bisogno di tutti. Sono felice perché mi piace avere la responsabilità dentro, già l'anno scorso avevamo una squadra join e quest'anno è tornato Burghi e Jan che ci portano un po' più di esperienza. Io ho cominciato pure prima da solo perché non volevo partire da zero, quindi vediamo, non so com'è con la tecnica, fisicamente mi sento molto bene. Le aspettative sono alte, devo aiutare questa squadra a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, quindi sarà un anno veramente molto importante per me.